Sì, parlerò brevemente, perché altre cose più importanti mi attendono altrove. Per prima cosa muoverò un aspro, un asprissimo richiamo a donna Bianca e a suo figlio. Cugina, cugina mia carissima, vostro figlio ha commesso un'azione indegna, un peccato gravissimo. La povera e tenera pecorella smarrita, vieni, vieni, si è ritrovata in un branco di lupi e che il signore abbia pietà di lei, così come io l'accolgo sul mio cuore paterno. Eccellenza, ma noi chiedo scusa. Per cortesia, un po' di silenzio. Abbattala, sì. Eccellenza, permettevi, sei sbagliato. Lasciate, lasciate, vi dispenso da abbacciarmi la mano. Oh, chi sta sopra, vedo i? Non a me dovete chiedere il perdono, il perdono è di Dio. Io sono veramente il mio. E non insistete, eh? Permettetevi di insistere, apporto, ce l'è. Ah, la schiena, la schiena. Piano, piano. E, Mielsa, io sono il sindaco di questo paese, Vittorio Stardeggiore. Sì, sì, già me l'avete detto tre volte. Sì, perché tutta la parola non avevate sentito. Piuttosto, cercate di migliorare le condizioni di queste strade per arrivare in quassù. Mi è tenuto il maldato. Mi è tenuto il maldato. Io faccio tanto per risolvere questo spinoso problema. Infatti, non mi dà di soldi. Faccio tanto per questo...